Augusta sbarchi senza sosta, prodono 834 migranti di cui 11 minori, scatta l'indagine su scafisti. Dopo una complicata estate che ha visto la questione di Siracusa naturalmente impegnata nella organizzazione connessa alla gestione dei numerosi sbarchi di migranti sulle nostre coste con la pianificazione dei servizi di vigilanza nei porti di approdo di Augusta, di Portopalo e di Capopassaro, l'identificazione e il fotosegnalamento dei migranti e le necessarie indagini di polizia giudiziaria finalizzate all'individuazione di scafisti. Gli arrivi sulle coste aretuse non sembrano attenuarsi. Nella serata di ieri e nel corso di questa nottata sono approdate, scortate dai pattugliatori della Guardia di Franza e dalle unità navali della Capitania di Porto due imbarcazioni di migranti nel porto di Augusta e in quella di Portopalo e di Capopassaro. In specie, nel corso della nottata scorsa, sono giunti presso la banchina del porto commerciale di Augusta 234 migranti regolari, di cui 11 minori non accompagnati, di varia nazionalità. Invece, altri 34 cittadini del Bangladesh, già nella terraferma, nei pressi di Portopalo, sono stati rintracciati dalle volanti della polizia, verosimilmente giunti con una barca in vetro e resina. Gli immigrati, tutti di stesso maschile, sono stati trovati in buone condizioni di salute. Come di conseguenza è scattata la macchina organizzativa della questura di Siracusa che coinvolge tutti gli uffici operativi e pertanto tutti i migranti saranno fotosegnolati dalla Polizia Scientifica di Siracusa, identificati dai poliziotti dell'Ufficio Immigrazione e successivamente accompagnati nei vari centri italiani in ragione del loro status giuridico e della loro posizione nel territorio italiano. Inoltre, gli uffici investigativi sono già al lavoro per individuare eventuali scafisti.